Buongiorno, benvenuti a questo primo panel della seconda giornata di evento del Motor Valley Fest, qui ospitato in una bellissima e prestigiosa città di Modena e quindi il futuro alla sostenibilità e l'elettrico è il nostro tema. Nello specifico è un po' il tema della giornata perché poi ci saranno altri temi di approfondimento, ma noi approfondiamo dal punto di vista dell'ISG e quindi degli obiettivi ISG sintetici e idrogeno. Sapete che comunque, non lo devo spiegare a voi che siete tutti esperti di questo settore, il settore dei trasporti, della mobilità sta vivendo chiaramente uno stravolgimento, tante opportunità che si aprono, opportunità ovviamente con l'obiettivo della decarbonizzazione, con un obiettivo che l'Europa ha dato e quindi è chiaro che chi fa parte della filiera industriale, produttiva, si deve in qualche modo adeguare e ad aprire a nuovi scenari. La tecnologia per questo è fondamentale, io mi occupo di tecnologia, di innovazione da diversi anni, mi capita sempre di più di vedere documenti in cui viene sottolineato il ruolo assolutamente centrale della tecnologia per innovare e per andare avanti e per progredire, ma sappiamo che per una decarbonizzazione esattamente così come gli obiettivi del net zero al 2050, probabili, non si sa se è veramente possibile ma comunque auspicabili, indicano, bisogna adottare tecnologie e ad oggi abbiamo tecnologie esclusivamente per assorbire o per riassorbire il 25% di quello che è l'impatto inquinante. Ci sono tecnologie alla sperimentazione che ci permetteranno di assorbire un altro 35%, questi sono dati che leggevo ultimamente, ma il restante 40% di questo 100% di emissioni non abbiamo ancora le tecnologie per effettivamente toglierlo dall'impatto ambientale e quindi il nucleo centrale del dibattito alla fine quando si parla appunto di tecnologie, nuovi carburanti, nuovi modi per vivere in modo più sostenibile è sulle tecnologie. Sappiamo che chiaramente le tecnologie hanno delle fasi sperimentali molto lunghe, quindi in questa tavola rotonda, cercando di approfondire il tema dell'idrogeno e tutto il tema dei synthetic fuels, self fuels, bio fuels, cercheremo di capire a che punto siamo, sia con la tecnologia e quindi la sperimentazione tecnologica, l'adozione di queste tecnologie in fase poi anche di utilizzo e di adozione e di applicazione, poi anche cercheremo di capire qual è il punto di vista dei nostri esperti, relatori che abbiamo ospitato in due momenti distinti di questa mattinata riguardo alla regolamentazione, all'impatto che questo potrebbe avere sul mercato, quindi un impatto che la tecnologia chiaramente poi ha e che non si può non immaginare essere anche per alcuni aspetti traumatico, perché dobbiamo sempre immaginare le questioni lavorative, le questioni produttive, le questioni industriali, non è così semplice cambiare e voltare pagina da un giorno all'altro. Allora abbiamo due momenti di questa mattinata, uno è un fireplace talk ovvero io lascerò che i relatori espongano il loro punto di vista anche essendosi preparati delle presentazioni e quindi lascerò che siano loro a parlare e poi abbiamo invece un momento con altri relatori che è più una discussione, una round table fino appunto poi ad arrivare alle 11 quando io darò la parola al prossimo panel. Allora io ho il piacere di dare il benvenuto e quindi di introdurre Piero Olivier Calendini, Director at Aramso Paris Fuels Research Center, benvenuto e buongiorno, prego. Così come ho il piacere di dare il benvenuto ad Alessandro Bartelloni, Fuels Europe Director, benvenuto e buongiorno, e anche ad Alessandro Viviani del Forum Ambrosetti, benvenuto e buongiorno, prego. Allora, chiaramente sappiamo, parto da un dato, sappiamo che l'elettrificazione, abbiamo anche una prestigiosa traduttrice che tradurrà quindi il panel è in italiano e io non so se devo forse parlare più lentamente adesso che faccio le domande per permettere a lei di poter tradurre. L'elettrificazione non è in discussione, quindi partiamo dal dato che comunque l'elettrico, ecco si dà il tempo al nostro primo relatore per mettersi l'auricolare. L'elettrificazione non è in discussione, abbiamo chiaramente il dato che in Europa l'elettrico in questo momento è molto favorito, anche se poi in fondo impatta sull'inquinamento generale, globale, siamo solamente noi in Europa che abbiamo questa attenzione verso l'elettrico dai dati per l'1%. Quindi diciamo che partiamo da questo mondo dell'elettrico che è da una parte, dall'altra ci sono tutte le tecnologie che possono inserirsi in questa varietà tecnologica per un cambiamento. E quindi la prima cosa che vorrei chiedere, diciamo così, lo stimolo che vorrei dare prima di dare la parola ai nostri relatori è il punto di vista di ciascuno rispetto alla loro esperienza, rispetto ai loro contesti di appartenenza, in questo caso al Piero Olive Calendini, come Aramco Research Center di Parigi e sulla soluzione dell'idrogeno come carburante alternativo e sue fuel cells, quindi comunque biofuels e synthetic fuel in ottica ISG, quindi nel proposito di essere più sostenibili nel nostro blocco europeo. E poi quali sono chiaramente rispetto all'adozione di questo tipo di soluzioni alternative, chiaramente all'elettrico, che quindi si pongono da un'altra parte rispetto all'elettrico, quali sono sempre in chiave di sostenibilità le sfide e le opportunità. E per sfide intendo anche le sfide normative, le sfide di applicazione, le sfide di regolamentazione dell'adozione di queste nuove tecnologie. Quindi le passo, I give you the clicker, thank you very much, and lascio la parola a Piero Olive Calendini. First thank you for this discussion and for the invitation to participate to this very interesting discussion. I think we need to explain a little bit what is synthetic fuel because it's a broader concept. Hydrogen is part of the synthetic fuel or could be part of the synthetic fuel family. Ammonia also, methanol and what we call also drop-in fuel that most of people know about synthetic fuel is a fuel that you can use directly into existing car, so drop-in fuel, so to mimic today hydrocarbon fossil fuel. So I have prepared some slides just to be sure that everyone can have the background about what is synthetic fuel and after I will go deeper to answer to your question. So maybe a very short video. So I'm sorry there is no sound, but okay. So synthetic fuel, as you can see, start with hydrogen. And so hydrogen is obtained through electrolysis of water. So we get hydrogen and oxygen. And then we combine hydrogen with the CO2. And the CO2 can be captured from point source, industrial source, or can be captured from air. And then we have chemical process to combine both together and to upgrade the hydrocarbon chain that we will obtain up to get synthetic fuel, fuel, a drop-in fuel. They can be used into existing car, flight, or even in the marine application. So it's a basic of synthetic fuel. Start with hydrogen and carbon and get the hydrocarbon chain for, to power the mobility. There is another slide. We summarize all the different routes to get such a fuel. So you have a lot of different process depending about the fuel that you want to get at the end of the day. There is not an unified process. So you need, since the beginning, to know what is the fuel that you are targeting. Hydrogen, ammonia, methanol, gasoline, diesel, jet fuel. And then for, thank you. If you can put in a large screen. So then for each of them, you have a different process. And it means you need a different production plant and you need a different investment. So each route requires large investment. So it's why it's crucial for a company like Aramco to have a very clear understanding about the market opportunity before to make any big investment to produce synthetic fuel. We are speaking just to give you an order of magnitude, but for a small production plan, something like about 35,000 birds per day. So just to give you an idea, in Europe, the biggest refinery are producing about 300,000 birds per day. So 10 times what I'm explaining now. So for a small production plan like this, the investment is only between 2 and 5 billion. Okay. But don't be afraid. Whatever is the solution for the future, electrification, synthetic fuel, hydrogen, all need a considerable investment. But just to give you some order of magnitude. So what's the key benefit of synthetic fuels? So the first one is the sustainability. So it's already well documented by a lot of different institutes and laboratories and companies that with synthetic fuel, you are able to reduce the greenhouse gas emission of existing vehicle by minimum 70%, which is the regulation is asking for. And somewhere for synthetic fuel between 90, 92, 93% was a presentation a few weeks ago at Vienna with Konkawi, where we speak about 90, 93% greenhouse gas reduction. So you see, we are going to very low greenhouse gas emission. And so at the point that we are comfortable to call this kind of climate neutral fuel. Of course, there remain some CO2 emission, a very small one, like any solution, including battery electric vehicle. But we are very low compared to what is today fossil fuel. The second point is the compatibility. I think it's the main big benefit of synthetic fuel. So you can use this with existing infrastructure. So you don't need to make huge investments. We take a long time on the supply chain and you can use an existing road vehicle. So you can decarbonize the vehicle. So you can decarbonize the car you are driving today. The third point is the complementarity. So synthetic fuel can be blended with fossil fuel. It can be blended with biofuel. So there is already a solution. It's still compatible with existing vehicle. So you can add all this together to the journey of decarbonization. And with electrification, it's also another way. And you can combine both together with an hybrid car, for example. And the last point also is very important is the scalability. Because synthetic fuel have virtually no limit. So it's important to explain a little bit here. Here is a map about the potential of renewable energy globally. Okay. It's an old publication now from 2017 from IRENA. And you can see the large potential is about nearly 12 hexajoules per year. Mostly solar. It's a big yellow part. Followed by geothermal. The beauty of geothermal is almost constant. Wind and hydro and ocean. Today, the world energy consumption is about 600 hexajoules. So you see the gap. 600 is what the world is consuming today. And the renewable potential is about 12,000. So there is an excess on unused of renewable energy worldwide. Now the challenge is how you capture this energy and how you supply this energy. So when you look how this is distributed over the world, you can see that there is some area where very large potential like Africa, Middle East, Australia. And unfortunately, it doesn't match the area where we are using or where we are using today energy because it's Europe, China, tomorrow India, US. So it's a region where the potential is low compared to the other one. And then the challenge is how to capture this energy and to transfer this energy. And what's the initial concept of synthetic fuel is a way, an easy way, convenient way to capture where the energy is abundant and per definition cheap to store and to transfer. Because today the supply chain infrastructure for liquid hydro carbon is already there. So because very often we hear the discussion about efficiency, energy efficiency. Yes, that's true. If you have electron, it's more efficient to transfer electron to the battery and to use directly on the car than to go with an intermediate like synthetic fuel. Okay. But the problem is this is not the situation. The situation is this renewable electron is far from the user. And then we need to find a way to transfer and synthetic fuel hydrogen is a solution. It's why today there is a lot of investment on this matter. Okay. So this is just to give you an overview about what we are calling synthetic fuel, hydrogen, ammonia, methanol and drop-in fuel. I will explain also the opportunity very quickly. Yes, because your time is finished. Okay. Very quickly. So based on this and based on all the research that we did, because we invested this for a long time, we decided to invest in production plants. Two production plants. As you see, there is different one depending on what you are targeting as a product. And so we start to engineering two production plants. So one in Spain, who is dedicated for aviation fuel and diesel. And another one in Saudi, who is dedicated to produce gasoline. And we expect to have this starting to produce in 2025. So for us, it's the next step and to open the big opportunity to large scale production and commercialization. Thank you. Thank you for your presentation. And thank you for your synthetic conclusion. Thank you. Allora, io adesso chiedo agli altri relatori di riaccomodarsi. Tanto ogni volta che ci sarà una presentazione molto probabilmente ci rialzeremo e faremo questa stessa cosa perché siamo troppo vicini allo schermo. Allora, ringrazio ovviamente Calendini per questa overview e tra l'altro per avere anche introdotto il tema di altri settori, non solamente la mobilità come io avevo detto in introduzione, ma è chiaro che ci sono altri settori in gioco, che sono appunto quello marittimo, quello aereo, quello su gomma. Insomma ci sono tanti non solo la mobilità come noi la intendiamo forse più. e poi vedremo anche nella tavola rotonda che c'è un altro settore ancora ed è interessantissimo il fatto che sia presente che poi anche il settore dell'agricoltura che è un altro mondo che si apre per appunto l'utilizzo dei carburanti. Alessandro Bartelloni di Fuels Europe, direttore di Fuels Europe. Io adesso le darò la parola, magari lei ci chiarirà nella sua presentazione anche un po' che cos'è questo soggetto Fuels Europe, ma sintetizzando è un soggetto che comunque si occupa di tecnologie e anche di fare un po' da tramite tra il mondo industriale e in generale le istituzioni europee, le istituzioni anche politiche europee. Quindi forse chi meglio di voi ci può dare una suggestione su quelle anche che dovrebbero essere le sfide normative in tutto questo. Quindi le lascio ovviamente subito la parola per le suggestioni appunto di quello che saranno i biocarburanti, i carburanti sintetici e l'idrogeno in chiave ISG, proprio perché voi forse siete più vicini di chi è in Italia alle istituzioni europee. Prego. Grazie. Sì, l'introduzione è molto corretta. Se posso mi alzo subito perché ho delle slide che ci aiuteranno. Quindi la prima domanda è che cos'è Fuels Europe? Fuels Europe è un'associazione europea dell'industria della raffinazione e dei fuels. Vedete questi logo, sono 39 società, circa il 95% della capacità di raffinazione europea, quindi rappresentiamo piuttosto pienamente quella che è l'industria. Ci sono le grandi multinazionali, S-Mobile, Shell, Enie, eccetera, e nazionali e regionali. Quindi rappresentiamo tutti. Cosa facciamo? Due aspetti. Questa associazione ha una divisione tecnica con CAWE, Pierre ha menzionato con CAWE prima, che fa degli studi tecnici sui fuels, sulla raffinazione, sull'utilizzo dei fuels nei veicoli e anche sull'ambiente. Fuels Europe, invece, quella di cui io sono responsabile, è l'associazione che rappresenta la nostra industria verso le istituzioni europee, quindi la Commissione europea, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo. E quindi il nostro pane quotidiano è la discussione su quella che è la legislazione che ha impatto sulla nostra industria. Ovviamente la decarbonizzazione del trasporto è un elemento fondamentale. Decarbonizzazione è il termine giusto? Mi riservo di riparlarne dopo. Possiamo far partire il video, per favore? Il sistema di interno combustione ha avuto molto lontano, providingi enhancedi power densità, driving range e ease of use, while reduzione undesired emissioni e improvingi overall efficienza. Però, per combattere il petrolio-bastigio, il sistema di interno combustione è iniziato a lineare carboni, e iniziato a accumulare CO2 in l'atmosfera. Ma cosa se mi ha detto che con l'embraccia low-carbon liquid fuels possiamo mantenere i benefici di l'internal combustione senza un'impacte sull'ambiente solo per cercare il ciclo di circolazione grazie a l'utilizzo di carbone Il CO2 rilassato da queste low-carbon liquid fuels non ha un'impacte sull'ambiente perché queste fuels usano circolare carbon either biogenica o capturato direttamente da l'air e non sono i benefici per il clima importanti, queste fuels sono compatibili con le current internal combustion engine tecnologiche e l'infrastruttura Powered con l'internal combustione l'internal combustione engine anche complements l'elettrificazione di vehicles including hybridisation e plug-in hybrids enabling zero emission regardless of the driving mode used Despite great progress the internal combustion engine has yet to meet its full potential Paired with low-carbon liquid fuels and electrification it could contribute to decarbonizing both existing and new vehicles enabling everyone to contributing to climate neutrality and will support Europe in its leadership in strategic clean technologies per contribuire alla lotta contro il climate change il trasporto può fare molto e i fuels non fossili possono affiancare l'elettrificazione l'idrogeno ovviamente gli fuels fanno parte dei fuels non fossili per ridurre sostanzialmente la carbon footprint del trasporto Allora vediamo due slide rapidamente la prima vi ho detto ho accennato mi sembra inizialmente che la nostra industria è in transizione che cosa significa? I nostri 38-39 membri hanno tutti concordato sul fatto che dobbiamo contribuire al raggiungimento della climate neutrality nel 2050 oggi la stragrande maggioranza della materia prima che si usa nella raffineria è crude oil ecco questo progressivamente deve diminuire fino a scomparire questo è chiaramente è la transizione che abbiamo davanti a noi sostituita da cosa? da biomassa sostenibile quindi non in competizione con il food da CO2 riciclata assorbita dall'atmosfera e da waste anche questa è una risorsa molto importante per il futuro la raffineria stessa va adattata sarebbero investimenti ma tutto quello che sta a valle può rimanere com'è perché gli oleodotti che trasportano i fossil fuels possono trasportare i non fossil fuels liquidi nello stesso modo la stazione di servizio è la stessa i terminali i depositi sono gli stessi anche il collegamento con il petrol chimico è lo stesso quindi immaginate che risparmio di investimenti in infrastrutture che abbiamo rispetto ad altre soluzioni pensiamo all'elettrico cosa occorre che ovviamente deve avvenire voglio essere chiaro non siamo contro l'elettrico i nostri membri investono nell'elettrico ma non può essere l'unica soluzione ho detto prima decarbonizzare è la parola giusta probabilmente è misleading ci porta su una direzione sbagliata perché probabilmente dovremmo dire defossilizzare il trasporto la molecola di carbonio combinata con l'idrogeno quindi l'idrocarburo è il modo migliore che la natura conosce per immagazzinare energia per trasportarla però questa molecola di carbonio non può il C l'atomo di carbonio non può essere di origine fossile altrimenti è lineare come abbiamo visto nel video quindi estratto dal sottosuolo e poi rilasciato all'atmosfera e quindi aumenta la concentrazione di CO2 nell'atmosfera questo non è il caso se la molecola di carbonio deriva invece dal carbonio assorbito all'atmosfera da biomassa convertito in biofuels utilizzato e di nuovo emesso all'atmosfera la circolarità gli e-fuels di cui Pierre parlava stessa cosa assorbire dall'atmosfera questo non dalle piante ma l'uomo convertito in e-fuel utilizzato e rilasciato di nuovo possiamo andare al secondo video per favore un altro breve video sui i low carbon fuels cosiddetti e-fuelo EU citizens demand more options in the transition to climate neutral mobility what if banana peels plastic waste and CO2 sucked from the air could be part of the solution together with electrification and hydrogen low carbon liquid fuels also known as refuels are produced from waste sustainable biomass renewables and captured CO2 which can be used by all in every transport mode these sustainable liquid fuels from non-petroleum origin emit no or very limited additional CO2 during their production and use thanks to their unrivaled energy density low carbon liquid fuels are essential in aviation maritime heavy duty and a share of light duty transport in these sectors either alternatives will take longer to be deployed or specific vehicle uses and social considerations make it more difficult to shift to a different engine technology low carbon liquid fuels have the advantage of being compatible with existing and new vehicles and distribution facilities you can keep driving your car make it climate neutral and feel good about it these sustainably produced fuels are climate neutral because the CO2 they emit in the atmosphere is circular it is the same CO2 that was absorbed by plants or captured directly from the air or other emission sources using these fuels will smooth the deployment cost of electric energy distribution and reduce time pressure of achieving complete fleet turnover first blended with conventional fuels they will progressively replace fossil based fuels providing consumers with accessible and affordable clean mobility choices especially when compared to alternative technologies low carbon liquid fuels are already on the market but they have yet to be deployed in multiple plants across Europe to deliver these fuels at scale only then can low carbon liquid fuels achieve the dual purpose of contributing to enabling European maritime air and road transport to become climate neutral by 2050 and consolidating Europe's industrial leadership and jobs in innovative decarbonization technologies E con questo concluderei penso il tempo sia esaurito però qual è il ruolo della legislazione europea questo è molto importante la legislazione europea in questo momento non favorisce gli investimenti nei fuel non fossili perché c'è una legislazione che riguarda i veicoli che impone un limite nel tempo nel 2035 di zero emissioni di CO2 per chilometro questo poiché è misurata al tubo di scappamento una tail pipe regulation come diciamo ovviamente esclude bandisce la tecnologia dell'interna combustion engine ecco noi non pensiamo che questo sia corretto perché in un approccio più olistico dovremmo tener conto di tutte le emissioni del ciclo tenendo conto di tutte le emissioni del ciclo si vede che un'auto specialmente di 6 ibrida che utilizza solamente carburanti non fossili compete in molti casi è meno carbon intensive di un'auto elettrica quindi questa è una cosa che la legislazione attuale non consente il dibattito è ancora aperto siamo impegnati su questo gli stati membri stanno svegliandosi svegliandosi al pericolo che questo comporta per l'industria per il consumatore e per l'economia devo dire che l'Italia è in prima linea su questo però è una cosa che è essenziale da ottenere per consentire agli investitori di vedere un ritorno nei loro investimenti convertire una raffineria in una bio raffineria chiaro spero di poter dire di più nel panel assolutamente grazie grazie anche ad Alessandro Bartelloni di Fuels Europe e allora lascio la parola invece ad Alessandro Viviani degli European House Ambrosetti perché Ambrosetti è abbiamo un po' chiamato in causa la politica, le istituzioni, il mondo industriale voi siete con Ambrosetti un grande osservatorio nel nostro paese tra un altro il forum di Cernobbio comunque è un grande punto di snodo di quelli che sono i temi della contemporaneità dell'attualità, la criticità anche avete questo confronto cioè promuovete questo confronto con la politica che è fondamentale l'abbiamo sentito adesso ci sono dei temi che sono sul tavolo ma che di fatto non sono ancora risolti l'Europa impone delle cose da questo punto di vista tra l'altro voi vi siete focalizzati con l'InnoTech community perché voi avete all'interno degli European House Ambrosetti una community che si occupa di nuove tecnologie quindi approfondisce, studia emette dei report, dei paper e uno in particolare vi siete focalizzati su uno studio sull'idrogeno quindi un po' era per capire anche da questo studio che cosa stava emergendo ma poi avete svolto un altro studio per un'importante azienda italiana si può, forse la posso citare esatto la posso citare che è stato presentato al forum di Cernobbio e questo invece è uno studio sulla neutralità tecnologica che è un altro dei temi di cui forse sentiremo parlare anche nella tavola rotonda di discussione però lascio ad Alessandro Viviani la parola per illustrarci e poi ovviamente concludiamo questo primo fireplace talk prego grazie molte buongiorno a tutti in realtà i colleghi speaker che mi hanno presieduto mi hanno dato un lancio molto buono su questo tema permettetemi di fare un passo indietro non entrerò in ulteriori dettagli tecnici il minimo possibile però quello che vorrei fare è un po' un ragionamento sui principi che dovrebbero guidare le policy anche che guidano poi quella che è l'attuazione dei processi di decarbonizzazione concordo contro Alessandro io utilizzo il termine carbon neutral, climate neutral dicevi benissimo all'inizio tecnologia e innovazione sono i nostri principali alleati e in questo senso le policy dovrebbero permettere al mercato il più possibile agli operatori industriali agli ingegneri, a chi effettivamente risolve tematiche di natura tecnologica di sperimentare e di utilizzare tutte le tecnologie a noi disponibili utilizzo un proverbio cinese non importa il colore del gatto purché prenda il topo per cui non importa quale tecnologia utilizzo l'unico metro di misura che dovremmo avere è quanta CO2 riesco a ridurre questo sia nel definire quali sono le politiche sia poi anche nelle policy di incentivo noi abbiamo approfondito questo argomento come ben dicevi in un rapporto che abbiamo svolto per Eni l'anno scorso coinvolgendo tutta una serie di stakeholder a livello internazionale sia a livello accademico anche a livello industriale a livello di policy in cui sostanzialmente abbiamo voluto sostenere con forza quello che è la necessità del contributo sinergico e sistemico di tutte le tecnologie inizialmente dicevi l'elettrico non siamo qui per dire che è una scelta sbagliata ecco che però l'elettrico va efficacemente complementato e messo in sinergia con tutta un'altra serie di tecnologie decarbonizzare il settore navale non è come decarbonizzare il settore aereo non è come decarbonizzare un'acciaieria non è come decarbonizzare un'auto su strada o un mezzo speciale ognuno ha delle specificità che vanno attenzionate e per cui in qualche modo dobbiamo assicurarci che le policy permettono all'industria di svolgere questa attività come dicevi l'abbiamo presentato a Cernobbio c'era l'allora candidata Giorgia Meloni e ci ha fatto molto piacere che nel suo speech di apertura della camera abbia ripreso questo principio e stiamo lavorando tuttora lo vedremo poi anche con delle attività più di community per fare in modo che dare gli strumenti al governo italiano con cui portare questo principio anche a livello europeo porsi diciamo in maniera proattiva sui tavoli europei per fare in modo che le policy sempre più si orientino anche perché non è solamente un tema di sostenibilità è anche un tema di competitività industriale di opportunità di leadership industriale in cui l'Italia può giocare sicuramente un ruolo importante perché neutralità tecnologica uso due macroambiti di razionale ce ne potrebbero essere altri il primo ho già detto abbiamo tanti ambiti di decarbonizzazione ognuno ha bisogno di tecnologie diverse il secondo non meno importante dobbiamo evitare di fare in modo che una dipendenza energetica diventi una dipendenza tecnologica ci sono tutta una serie di tecnologie che nei prossimi anni cresceranno di importanza e che dipendono sempre più da importazioni e di tecnologie e di materie rare piuttosto che altri elementi per cui questo è un elemento fondamentale anche in questo contesto attuale diciamo a livello internazionale abbiamo definito in maniera molto alta quello che dovrebbe essere in qualche modo un framework di ragionamento per definire una policy di carbonizzazione vado veramente per ragionamenti semplici però al di là dell'efficienza energetica noi l'energia primaria la possiamo avere principalmente in due modi non considerando nucleare o rinnovabili e bienergie quindi quello che ci arriva principalmente dal sole o fossil fuel con carbon calcio questo è un tema che dovremmo sempre più avere come attenzione come bridge verso un mondo completamente rinnovabile ma è sicuramente qualcosa che ci consente di accelerare il processo di decarbonizzazione e fare leva su asset esistenti una volta ottenuta energia dobbiamo come si diceva prima essere in grado di trasportarla metterla a disposizione ecco che oltre all'elettrificazione abbiamo disponibilità di fuel biomethane idrogeno fuel sintetici un elemento qua in verde permettetemi la parola compensazione delle emissioni non tutti i settori potranno essere decarbonizzati in alcuni dovranno metterci in condizione di poter compensare questo è un qualcosa che in tante industrie non da ultimo il settore dell'aviation è un tema all'ordine del giorno su come fare anche qui le policy dovrebbero riuscire a permetterlo meglio mi concentro su quell'elemento azzurro sulla destra CO2 infrastructure per poter abilitare tutto questo abbiamo bisogno non solamente di gestire quelli che sono i vettori le fonti di energia dobbiamo anche sempre più riuscire a gestire la CO2 saperla stoccare saperla trasportare saperla combinare con altri elementi per produrre e fuel e questo è un altro tema su cui si gioca una grossa partita di competitività industriale ovviamente se avessimo la bacchetta magica venendo al tema dei trasporti al di là del total cost of ownership ci sono tutta una serie di caratteristiche che vorremmo da quello che è il settore della mobilità il combustibile futuro abbondante integrabili con i nostri sistemi attuali facilmente trasportabili con una logistica semplice e soprattutto che non modifichino anche quella che è una customer experience ecco che veniamo al primo che per me è importantissimo su cui molto spesso dimentichiamo di avere un focus su tutto quello che è biocarburanti bioenergie biometano è un qualcosa di cui potremmo avere una potenzialità molto più ampia solamente in Italia la produzione di biometano abbiamo stimato con A2A l'anno scorso potrebbe aumentare di 20 volte a livello mondiale c'è una quantità di terreni che potrebbero essere messi a cultura terreni marginali non dedicabili all'alimentare veramente impressionante e che potrebbero essere sfruttati per la produzione di bio sostanzialmente tema importante è che però sono talmente belli talmente anche poi facili da integrare nei sistemi esistenti che ci sarà una fortissima competizione su questo lo guarderanno il settore dell'aviation lo guarderanno il settore dei trasporti marittimi lo guarderanno tanti settori industriali che ad oggi sfruttano gas o altri combustibili di natura oil per cui qualcosa in cui anche il settore della mobility dovrà guardare ma con attenzione ha una forte competizione su accesso di queste risorse vado al tema dell'idrogeno ma è molto caro è un vettore energetico che su cui oggi già si è investito molto a livello di veicoli sostanzialmente abbiamo molte gamme di veicoli oltre le automobili che possono beneficiare dell'idrogeno e non dell'elettrico per essere sostanzialmente elettrificati ecco che qui il focus non dovrebbe essere tanto sul il veicolo ma quanto sulla capacità di instaurare una value chain dell'idrogeno che consenta di portare effettivamente l'idrogeno laddove serve ed oggi in qualche modo poi lo vediamo ci sono alcuni elementi di criticità dal nostro punto di vista il settore della mobilità specialmente in alcuni settori lasciatemi dire più a livello locale o dei trasporti pesanti su dei corridoi è il primo ambito in cui cominciare a inserire l'idrogeno proprio come un first mover advantage come un qualcosa che poi possa trainare la creazione di una filiera di produzione di logistica dell'idrogeno arrivo all'ultimo punto synthetic fuels permettetemi una considerazione tecnica dal mio punto di vista sono bellissimi ci consentono di essere inseriti come prima veniva benissimo illustrato all'interno dei sistemi esistenti ecco che è un allungamento della filiera rispetto all'idrogeno quindi il risparmio la compensazione di risparmio che ho sulle piattaforme industriali sulla user experience dei clienti in qualche modo devo andare a compensarlo con una perdita di efficienza complessiva del sistema qui abbiamo fatto un po' di calcoli sostanzialmente comunque siamo 30% 25-30% a essere ottimisti di perdita rispetto all'utilizzo dell'idrogeno mi concentro anche su quella freccia blu in alto atmospheric CO2 che come ci spiegavano può arrivare o da direct air carbon capture o da sostanzialmente CO2 di emissione biogenica che viene catturata ecco che questo è un altro tema su cui dal punto di vista tecnico bisogna ancora riuscire a misurarsi siamo bravi a catturare la CO2 in ambiti concentrati al di fuori di una raffineria al di fuori di una acciaieria molto più difficile catturare CO2 in atmosfera in cui la CO2 è molto più rarefatta quindi questo qua sicuramente è una grandissima opportunità da proseguire investire su questo lasciare la policy più aperta possibile ecco che rispetto all'idrogeno in qualche modo semplifica da una parte ma pone alcune sfide di natura tecnologica l'idrogeno quindi dal nostro punto di vista è sicuramente un elemento da attenzionare e spingere non solamente da un punto di vista di sostenibilità ma anche da un punto di vista di opportunità economica industriale abbiamo fatto uno studio con SNAM due anni fa tre anzi scusatemi in cui ci siamo chiesti ma quale sarebbe l'opportunità industriale per l'Italia partendo da due considerazioni abbiamo delle leadership industriali nel mondo delle tecnologie termiche nel mondo delle tecnologie meccaniche in principio al mondo su tutta la gestione di fluidi gas in pressione di fluidi criogenici ecco che ci sono delle opportunità industriali importanti in relazione a quello che sarà lo sviluppo mondiale dell'idrogeno stiamo parlando di filiere industriali che al 2050 potranno avere un valore aggiunto di 35 miliardi considerando tutte le diverse fonti di creazione diretta e indiretta di valore da qui quindi nasce la nostra community che prima citavi che vuole appunto essere un punto di confronto tra operatori industriali molto concreti in cui ci si confronta rispetto agli opportunità e le criticità per sostenere quello che è anche l'attività dei policy maker nel facilitare la capacità di acquisire diciamo di raggiungere le posizioni di sostenibilità e di competitività industriale qui sono i partner che fanno parte è un percorso che è partito che si concretizzerà nei prossimi mesi abbiamo fatto già un primo incontro in cui ci siamo sostanzialmente confrontati a livello internazionale su quello che sta succedendo a livello di come i diversi stati membri europei o ex europei in caso UK o Arabia Saudita si stanno organizzando per cogliere le opportunità dell'idrogeno abbiamo Svezia Europe Germania Arabia Saudita UK e sostanzialmente abbiamo trattato alcuni dei temi e ci siamo messi a confronto con le restanti parti europee per capire cosa in Italia sta andando o in alcuni casi la maggior parte purtroppo non sta andando e quindi quali sono anche i punti di intervento ci saranno scusatemi ci sono qui alcuni dei temi prima di tutto la governance in Italia siamo partiti con una bozza di strategia sull'idrogeno non abbiamo ancora visto concretezza ci sarà un aggiornamento del NIEC vediamo come arriverà non c'è però evidenza di un meccanismo di governance allargata operatori industriali che consenta di generare questa questa governance se di accompagnarla ci sono alcuni esempi specialmente quello tedesco in cui hanno avuto un modello di governance molto allargato aperto al settore industriale quello svedese in cui la governance la strategia di idrogeno è molto legata alla capacità di ridare competitività a un settore industriale quello dell'acciaio molto importante per loro opportunità industriali ed infrastrutturali di cui parlavo prima green and blue hydrogen io credo che sia un tabù che in qualche modo dobbiamo ospatare se abbiamo opportunità di avere un idrogeno che mi dimostra su un life cycle di avere zero CO2 emessa in atmosfera come bilancio dovremmo tenere in considerazione ad oggi in Europa abbiamo 11,5 megatonnellate di idrogeno prodotto da fonte fossile ecco che è il primo passo che dovrei utilizzare per avere un vantaggio industriale da subito avere l'idrogeno disponibile ecco che invece la strategia europea rispetto magari a quelle UK che sfrutta in maniera molto più pesante tutto il tema dell'idrogeno blu della CCS si è concentrata principalmente sull'idrogeno rinnovabile tra il resto con alcuni vincoli sulla produzione rilegata a quelle rinnovabili che aumentano quello che è il capex necessario per produrre idrogeno e che quindi mettono in alcune ulteriori difficoltà ad attuarsi dei progetti in Europa rispetto ad altri progetti in altre parti del mondo chiudo velocemente idrogen import dobbiamo tenere in considerazione produrre idrogeno io arrivo da un viaggio in Arabia Saudita recentemente costa il 50% di meno che in Europa l'Italia ha una posizione in cui può creare vantaggio economico anche da questo sia attraverso pipeline sia attraverso shipping gli incentivi governativi in Italia siamo troppo focalizzati sulla parte capex forse anche dovuto al PNRR ne parlo dopo ecco che però dobbiamo spostare in qualche modo il focus verso la parte opex per consentire a chi poi è la domanda di idrogeno di andare a sostituire in maniera conveniente un combustibile tradizionale dobbiamo sempre più spostarci questo come dicevo il PNRR lo ritengo in qualche modo inadeguato perché accelera troppo alcuni investimenti abbiamo visto adesso la chiusura di alcuni dei bandi sono stati fatti probabilmente troppo la svelta è molto incentrato sulla parte capex dimentica un po' gli elementi legati all'opex dicevo il tema dei talenti ultimo i due temi dobbiamo se vogliamo fare in modo che lo stato il governo in qualche modo incentivi sia anche un traino nei confronti dell'idrogeno in alcuni settori in primis quello della mobilità deve anche un po' modificare le proprie regole di procurement acquistare un autobus a idrogeno o una spazzatrice a idrogeno non è lo stesso che acquistare un mezzo tradizionale e infine tutti i temi legati all'arbonizzazione delle regole legate alla sicurezza e all'omologazione questi sono alcuni dei temi che sono emersi continueremo a discuterne il 22 giugno saremo a Trento parlando di collaborazioni tra mondo industriale e mondo della ricerca e appunto idrogeno in transport as a first mover advantage proseguiremo con i tavoli di lavoro arrivando a giugno in cui ci confronteremo col ministro rispetto alle proposte che vorremmo emettere grazie ho preso troppo tempo no erano tutte cose molto interessanti anzi ti ringrazio perché sicuramente hai dato degli spunti poi per la successiva tavola rotonda io ringrazio i nostri primi tre relatori Piero Olivier Calendini direttore appunto del Fuer research center di Aramco Sparì e poi Alessandro Bartelloni di Fuels Europe e Alessandro Viviani di The Europeano a San Frosetti grazie moltissimo per questi spunti molto interessanti grazie e allora a questo punto andiamo avanti nella tavola rotonda e quindi io mi riprendo il clicker eccomi qua e do il benvenuto e quindi chiedo appunto di sedere sui posti che abbiamo previsto tanto a questo punto non ci sono più slide Pierpaolo Antonioli CTO di Punch benvenuto e buongiorno Cristiano Musi CEO di Landi Renzo benvenuto e buongiorno Vittorio Dini Power Train Director di Ferrari buongiorno benvenuto Filippo Rigoni Vice President Business Development Zero buongiorno e Alessandro Zilli responsabile Alternative Wealth New Holland Italia e Grecia buongiorno allora i tempi sono sempre più serrati però giustamente le cose interessanti hanno bisogno di tempo io lo dico quindi ho detto sia una cosa che l'organizzazione mi ha chiesto di dire sia un'altra che è il mio pensiero dunque io inizierei da Punch eccoci qua esatto abbiate pazienza non vi conosco tutti bene ogni tanto poi uso Linkedin di solito però è piccolo l'icona di Linkedin non è detto che poi dal vivo esatto mettiamo delle foto grandi su Linkedin allora Punch attraverso Punch Torino che è la sua diciamo core company il gruppo quindi che è la core company del gruppo Punch guida l'ingegnerizzazione così come appunto viene descritto di sistemi di propulsione e soluzioni di controllo innovativi allora io inizio da voi perché vi voglio chiedere anche un po' in base a quello che abbiamo sentito è chiaro che se avessi più tempo chiederei a ognuno di voi cosa ne pensate di quello che abbiamo sentito perché sono tutti stati stimoli interessantissimi un focus sicuramente lo devo dire la normativa e comunque la gestione diciamo così europea è critica soprattutto per il settore industriale non ci dimentichiamo che è vero ci sono tante criticità una in particolare credo che investa proprio il mondo del lavoro cioè non è che si può cambiare e buttare le persone a mare non so come dire quindi è un tema che questa transizione ecologica energetica che dir si voglia che un po' è la parola del momento transizione però ha tante criticità soprattutto però facciamo invece un passo indietro verso la tecnologia che poi è il sottostante la base no? quindi perché l'idrogeno quindi focalizzandoci su le ultime cose che ci ha detto di Europeana Sambrosetti perché l'idrogeno come carburante per i motori per i tradizionali motori a combustione quali potrebbero essere le sfide tecnologiche di questa frontiera? Allora innanzitutto buongiorno e allora il perché dell'idrogeno penso che è stato spiegato veramente bene sia da Claudio Domenicali prima ma anche dal diciamo ieri ma anche dal panel che c'era che c'era prima l'idrogeno è un vettore energetico cioè quindi la cosa principale dell'idrogeno è che non deve essere visto come un combustibile non deve essere visto in competizione è stato anche detto prima con l'elettrico perché nella realtà se noi vogliamo veramente decarbonizzare dobbiamo cercare di trovare una combinazione di soluzioni che si basino su fonti di energia rinnovabile non importa se è un motore se è una cella combustibile se è un motore elettrico ma devono utilizzare fonti diciamo rinnovabili le fonti rinnovabili oggi sarebbero sufficienti l'abbiamo anche visto dalla presentazione di prima peccato che non sono disponibili laddove ce n'è bisogno e sono disponibili per esempio come ho visto nel nord Europa sono presenti nel medio oriente allora a quel punto l'idrogeno diventa importante perché ci consente veramente di trasformare trasportare questa energia da quei paesi ai paesi che ne hanno bisogno e non solo è importante per questo motivo ma anche importante perché può utilizzare l'abbiamo visto prima parlando anche dei combustibili sintetici infrastrutture esistenti quindi quando noi parliamo di sostenibilità non dobbiamo pensare solamente alla sostenibilità puramente ambientale ma dobbiamo immaginare una sostenibilità che renda conto di quella ambientale ma di quella economica e anche di quella sociale allora se parliamo anche di economia perché è fondamentale dal punto di vista dell'idrogeno dobbiamo pensare che le infrastrutture esistenti come gasdotti e oliodotti sono disponibili oggi così come sono disponibili tutta una supplier chain esistente e se vogliamo andare nel sociale anche un know-how ieri c'era anche il tema del know-how dell'importanza diciamo di crescere e noi ce l'abbiamo allora l'idrogeno ci consente di fare tutto questo quindi non è una competizione tecnicamente poi ci consente anche di fare un qualcosa di più l'impatto immediato che può avere veramente sulla decarbonizzazione perché noi pensiamo all'elettrico come una soluzione che ci consente nel futuro partendo da oggi di poter sostituire man mano i mezzi esistenti con delle vetture elettriche oggi l'idrogeno ci può consentire immediatamente di prendere quelle milioni di flotte di vetture che oggi circolano e poter riutilizzare quelle vetture trasformandole ad idrogeno ma trasformando i motori che oggi esistono quindi tecnicamente oggi è possibile prendere un motore diesel noi stiamo investendo su un motore diesel perché partiamo dai mezzi commerciali dai mezzi di trasporto pubblico dai mezzi industriali dall'agricarcio diciamo per esempio CNH tanto per dire perché quello è il primo settore che ha diciamo il più difficile hard to bait dal punto di vista elettrico Toyota per esempio ha investito direttamente su vetture Toyota sta facendo un grandissimo lavoro partendo dalle vetture dai motori a benzina quindi abbiamo motori a benzina e motori diesel tecnicamente è possibile e tecnicamente stiamo assolutando qua il mio amico di Landi Renzo produttori filiere esistenti quindi non andiamo a reinventarci completamente tutto ma semplicemente andiamo ad adattare componenti tecnologia e know-how esistente quindi questo è il grosso vantaggio dell'idrogeno è tecnicamente possibile ovvio esistono delle sfide delle sfide importanti ma sono sfide che abbiamo già superato nei decenni precedenti mettendo in produzione motore diesel con morel motore iniziale diretta benzina quindi non è una sfida impossibile è una sfida come tutte le altre allora Landi Renzo proprio perché oltre ad essere amico di Antonioli è anche diciamo così per logica la seconda la seconda persona la quale appunto mi viene di chiedere quale sono tra le soluzioni appunto che abbiamo che abbiamo approfondito anche nella prima parte soprattutto in riferimento all'idrogeno quali sono le soluzioni che hanno più senso secondo lei in ottica di decarbonizzazione o come appunto ci ha indicato Fueles Europe non decarbonizzazione ma un po' l'economia circolare dei carburanti in qualche modo no? dell'economia circolare della CO2 dal vostro dal vostro punto di vista intanto grazie e buongiorno a tutti ma io per me è musica per le mie orecchie quello che ho sentito con Pierpaolo penso che sia la terza volta che veniamo al Motor Valley Festival ed è sempre un grande piacere e tre anni fa noi parlavamo entrambi mi ricordo parlavamo di neutralità tecnologica e parlavamo di life cycle tre quattro anni fa tutti ci davano morti l'Andy Renzo fa gas noi dicevamo c'è un futuro per l'idrogeno il gas non è solamente il gas da fonti fossili ma è anche il biometano e il biometano ha un grande vantaggio perché recupera CO2 che altrimenti verrebbe messo in atmosfera e di conseguenza alcune applicazioni di biometano addirittura negli Stati Uniti vengono considerate carbon negative noi crediamo molto nello sviluppo di queste due tecnologie ma continuiamo a credere molto nella neutralità tecnologica e nel life cycle come principio base per cui crediamo anche che ci sarà sviluppo dell'elettrico però io chiederei ai nostri parlamentari europei quando parlano di elettrico al 2035 che questo elettrico venga prodotto solamente da fonti rinnovabili perché poi si parla di green hydrogen premesso che io sono d'accordissimo che il grande potenziale sta anche nel blue hydrogen con la carbon capture se parliamo di battery electric vehicle allora con lo stesso principio dobbiamo produrre solamente energia elettrica rinnovabile e questo forse è impossibile allora secondo me ripeto noi crediamo tanto nell'idrogeno crediamo tanto nel biometano ma crediamo tanto che l'unico modo per decarbonizzare sia sia e per rendere il nostro diciamo il mondo dei motori on road e off road perché non dimentichiamoci i generatori il marino l'agricalcio che sono importantissimi bisogna perseguire questa strategia di neutralità tecnologica e guardare lungo tutta la catena del valore poi chiaro che su certe tecnologie la nostra azienda ha fatto leva sulla sua conoscenza del gas naturale per diventare oggi un player importante nell'offrire gli stessi prodotti con le applicazioni idrogeno quello che posso dirvi è che noi vediamo perché noi abbiamo anche un'azienda che si occupa di infrastruttura per cui di compressori per il gas e per l'idrogeno noi vediamo visto che poi è sempre il discorso chicken and the eggs perché serve anche l'infrastruttura noi vediamo investimenti nelle nei compressori per le stazioni di rifornimento idrogeno molto più elevati di quelli che ci aspettavamo e vediamo investimenti che devo dire impressionanti nel trasformare a livello europeo ma dico a livello globale quella che era la produzione di biogas in produzione di biometano per cui due trend che si collegano molto a quello che ho sentito prima grazie io faccio un attimo un'inversione di relatori volevo sentire Ferrari però volevo continuare il discorso sull'agricoltura e poi passo a lei Alessandro Zilli rappresenta il responsabile di Alternative Fuels di New Holland Italia e Grecia magari ecco io penso che molti sappiano che cosa fa New Holland ma proprio perché voi vi occupate di trattori e quindi comunque il settore agricolo cerchiamo di inquadrare quali sono le criticità di questo settore prima ancora di dirci dal vostro punto di vista quale può essere per voi l'ideale di adozione di un mix di tecnologie nel prossimo futuro per sostenere il settore che comunque subirà una trasformazione una transizione anch'esso Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito come Alternative Fuels in realtà sono una conseguenza o meglio la nostra divisione è una conseguenza di quello che è un po' lo sviluppo e l'evoluzione del ruolo che ha l'agricoltura nel nostro mondo e nel nostro paese nel senso che l'agricoltura sta evolvendo sta si sta trasformando in non solo produttore ovviamente per il mercato primario ma sta diventando anche un un potenziale produttore energetico non soltanto di energia ma anche di quindi di vettori di vettori energetici perché fondamentalmente le imprese e le imprese agricole stanno diventando sempre più evoluti si stanno diversificando nel 2008 abbiamo visto l'ingresso del biogas quindi dell'elettricità della produzione elettrica oggi stiamo vedendo una trasformazione in un'ottica di circolarità all'interno del mondo agricolo circolarità significa che cosa? fondamentalmente la valorizzazione dei due asset che sono singoli e distintivi dell'agricoltura uno le biomasse biomasse nobili questo è la palestiano ma le biomasse avanzate che fino ad oggi non erano valorizzate l'altro tema è l'estensione dell'azienda agricola in termini di copertura e quindi come capacità di captazione delle rinnovabili che è il solare in quest'ottica qua e soprattutto in un'ottica di spingere l'agricoltore verso un'economia sostenibile e un business sostenibile della propria azienda va da sé che diventa produttore di che cosa? da una parte del biogas che domani già oggi sta diventando biometano e dall'altra del fotovoltaico fotovoltaico quindi elettrico ovvio che quindi quello che è la nostra roadmap di evoluzione di prodotto segue quello che sarà lo sviluppo e accompagnerà quello che sarà lo sviluppo dell'agricoltura in che cosa? veicoli a biometano che oggi di cui noi siamo i primi al mondo nel mondo agricolo a aver proposto e commercializzato un prodotto e l'altro sarà l'elettrico sto facendo queste due distinzioni perché siamo in realtà il mondo è già pronto tecnologicamente è già pronto dobbiamo implementarlo a livello di ecosistema o meglio di filiera allargiamo il termine della filiera che forse anzi sicuramente è la parte più delicata di questo sviluppo perché? perché ci deve essere un bilanciamento di tutti gli stakeholders stakeholder di cui siamo noi rappresentanti parziali qui oggi ma ci sono anche ovviamente tutti quelli infrastrutturali legati alla produzione e alla logistica che sono altrettanto importanti oltre che l'utilizzatore che siamo noi come veicolisti quindi questo è un po' il trend va da sé che c'è da rivedere rimodellare dei business model l'abbiamo visto nelle presentazioni precedenti che sono consolidati da vorrei dire quasi secolari quindi dobbiamo andare a riprogettare facendo che cosa? ovviamente cambiando pelle anche noi perché iniziano a esserci delle competenze e una modifica fisionomica anche delle aziende per poter rispondere in maniera più allargata e lungimirante a quello che sarà l'evoluzione del mondo agricolo agricolo del domani grazie grazie per questo per questo focus sul mondo agricolo adesso invece appunto l'ingegner Vittorio Dini che è power train director di Ferrari chiaramente un player fondamentale nella motor valley in generale al mondo in questo settore se parliamo di carbon neutrality di decarbonizzazione di circular economy delle energie disponibili oggi e allora vi chiedo qual è il vostro punto di vista di azienda appunto così centrale in questa filiera e qual è la vostra strategia per la carbon neutrality visto che siete un attore così pesante così rilevante tra l'altro voi avete una partnership con Shell ci doveva essere appunto la dottoressa Loreti di Shell che ci illustrava non è potuta arrivare per impegni per impegni diciamo così che si sono succeduti e quindi magari chiedo anche un pochino se lei ci può raccontare di questa partnership con loro che probabilmente è orientata verso la sostenibilità certo buongiorno a tutti allora io direi che la prima cosa che vorrei rimarcare è che oggi abbiamo discusso di i fuel di biocarburanti di idrogeno diciamo in modo molto molto aperto e senza preconcetti no? perché quello che sta succedendo soprattutto in Europa è un po' questa focalizzazione esclusivamente sull'elettrico che piano piano sembra che si stia in qualche modo sgretolando ma si sta sgretolando perché le basi tecniche stanno spiegando che andare soltanto sull'elettrico io in particolare ora parlo chiaramente dei trasporti dell'automotive è una cosa difficilmente perseguibile quindi penso che questa mettere in evidenza queste difficoltà possa permettere ai nostri governi di stabilire normative che permettano appunto anche a idrogeno e a benzine diciamo sostenibili di avere un ruolo nella decarbonizzazione del futuro allora noi come Ferrari in generale ovviamente siamo come tutte le grandi aziende orientate a ridurre il nostro impatto diciamo che in altri tavoli in altre sedi si è parlato della riduzione dell'impatto di CO2 dello stabilimento della fornitura di materie prime già lavoriamo con leghe d'alluminio secondarie nella nostra fonderia quindi risparmiamo già notevoli quantità di CO2 nella produzione però ovviamente per quello che ci riguarda è la la parte e-news quindi quella che oggi è regolamentata esclusivamente come emissioni di CO2 tank-to-wheel quindi quella che veniva spiegata prima quindi la misura esclusivamente alla allo scarico e e su questa bisogna in qualche modo intervenire con le normative allora noi offriremo ai nostri clienti delle vetture full electric quindi questo è stato già eh annunciato più volte e quindi avremo eh dei BEV ma eh non vogliamo assolutamente perdere quello che è il nostro DNA diciamo che Ferrari eh è sempre stata si è sempre distinta e nella nel motore a combustione quindi il motore a combustione per Ferrari è un motivo d'acquisto quindi non è che uno compra la Ferrari e poi se ha il motore eh elettrico il motore a combustione eh è uguale diciamo noi non facciamo delle vetture per il trasporto eh noi facciamo delle vetture eh per il divertimento eh dei nostri clienti eh il il motore come dicevo è sempre stato il cuore proprio all'inizio dall'inizio della della fondazione quindi Enzo Ferrari stesso diceva che 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 la Ferrari è il motore tutto quello che c'è intorno serve esclusivamente per portarlo in giro no? quindi questo per sintetizzare e e conseguentemente per noi eh eh rimane eh un punto chiave noi dobbiamo continuare ad offrire vetture col motore a combustione perché sappiamo che una la diciamo la maggioranza la maggior parte degli attuali clienti sicuramente eh ci chiede ancora di avere vetture col motore a combustione e quindi eh per cercare di eh andare incontro alle alle normative a questa esigenza di eh decarbonizzazione stiamo lavorando su entrambi i settori quindi sull'idrogeno sempre utilizzato come combustibile quindi come combustibile il motore a combustione interna eh diciamo che eh in modo simile a quello della della del levy duty quindi dei trasporti su strada eh ma diversamente dalla maggior parte eh degli sviluppi automotive eh che che stanno pensando a utilizzare l'idrogeno nelle celle a combustibile quindi nel sistema di fuel cell eh il sistema di fuel cell è sicuramente eh interessante ma per quello che ci riguarda eh una volta che abbiamo smarcato eh l'idrogeno come eh diciamo come elemento disponibile eh nelle nelle infrastrutture di rifornimento per noi mantenere il motore a combustione ovviamente è fondamentale quindi stiamo lavorando su motore a idrogeno motore a idrogeno che sembra eh eh semplice trasformare un motore benzina in idrogeno però se lo vogliamo fare ad alte prestazioni ha le sue difficoltà perché abbiamo bisogno di eh diciamo di valori molto vicini allo stecchiometrico per quello che riguarda la combustione dell'idrogeno e e sappiamo che eh eh l'idrogeno essendo un combustibile eh che ha una 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 grossa eh diciamo eh accendibilità una una velocità di di combustione altissima eh presenta alcuni problemi che noi eh nei nostri sviluppi abbiamo già visto e che stiamo iniziando ad affrontare è ovvio che il motore a combustione a idrogeno è diciamo agli albori del suo sviluppo quindi ha bisogno da un punto di vista tecnologico di molti anni per poter essere per poter essere competitivo quindi vi state orientando sull'elettrico no quindi allora l'elettrico è una proposta che dobbiamo fare ma perché? Perché diciamo eh ci aspettiamo che ci possano essere nuovi eh clienti che vogliono una Ferrari sono interessati a quello certo dall'altra parte però abbiamo ancora il nostro heritage e quindi i i clienti diciamo eh tradizionali attuali e anche che in futuro possono essere comunque appassionati di di motore a combustione che quindi vorrebbero eh il motore a combustione quindi noi stiamo ipotizzando una una disponibilità per il per il cliente sia di vetture elettriche che di vetture a combustione che siano solo combustione o ibride diciamo questo qui eh eh è in definizione ma ma nel senso che è già così oggi già oggi la sf 90 la la 296 sono vetture eh ibride plug in che hanno un notevole successo eh sul mercato eh ma non solo diciamo forse non tanto per la riduzione delle emissioni ma soprattutto per l'incremento di prestazioni che l'elettrificazione ci ha permesso quindi noi vogliamo continuare eh diciamo a lungo termine eh eh a a lavorare sull'idrogeno e nel frattempo stiamo comunque eh già testando eh delle benzine eh siano esse diciamo i fuel vere e proprie o eh derivate da da biocomponenti e che stiamo appunto testando proprio con Shell ora eh lei aveva citato eh Shell prima allora eh quello quello con Shell eh è un rapporto diciamo pluri decennale che ha la Ferrari e quindi è il nostro partner partito dalla Formula 1 sì sì praticamente è partito con la Formula 1 attuale partner della Formula 1 e proprio la Formula 1 è ehm diciamo il 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 banco di prova eh della della fattibilità di questi combustibili e della performance che possono fare perché dal dal 2026 il regolamento di Formula 1 prevede eh di utilizzare eh carburanti sostenibili e e diciamo che la competizione eh tra i diversi eh team di motoristi eh sarà anche la competizione tra i diversi eh produttori eh di benzine eh eh diciamo eh sustainable eh e quindi eh Shell sta già lavorando eh in modo eh attivo sulla sulla lo sviluppo delle benzine per il nuovo regolamento di Formula 1 del 2026 insieme a questo e quello che stiamo facendo è eh provare eh delle benzine che non saranno quelle di Formula 1 perché diciamo la Formula 1 ha delle normative dei regolamenti un po' diversi da quelle che sono le normative per l'utilizzo normale però derivato da questo banco di prova ci sono dei componenti che possono essere usati e noi stiamo usando già oggi delle benzine internamente di sviluppo per eh verificarne le prestazioni per verificarne eh la producibilità e la possibilità di utilizzarle in attività che siano motor sport o un futuro anche proprio di eh eventualmente utilizzo in fabbrica per sviluppare i motori deliberare i motori ed eventualmente per fare il il first fill quindi il primo riempimento di tutte le vetture che 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 produrremo anche qui per un'altra volta per per ridurre l'impatto della Ferrari sulla CO2 i clienti i clienti appassionati di motore combustione ci stanno già chiedendo ma io quando dopo il duemila trentacinque che cosa fa teoricamente non posso più usare la mia macchina dove la trovo la benzina voi ce la potete dare della benzina e noi chiaramente anche dietro questa questa spinta eh cerchiamo di collaborare con Shell e cerchiamo di trovare delle soluzioni che ci permettano di sviluppare una benzina che è esattamente intercambiabile quindi di tipo drop in eh per permettere anche eh ai nostri clienti di di continuare a utilizzare le loro vetture che non dimentichiamoci la maggior parte eh dei nostri clienti sono poi collezionisti hanno collezioni di vetture con molte macchine con un altissimo valore e quindi la possibilità di renderli disponibili diciamo eh ad eternum se vogliamo no nulla eterno poi magari cambierà qualcos'altro dopo cinquant'anni però per ora la Ferrari diciamo che la Ferrari è eterna ecco forse l'unica cosa eterna è la Ferrari grazie grazie vi chiederò poi una battuta finale ehm subito dopo aver sentito Rigoni ma mi sono presa un po' più di tempo con lei perché un po' ha sostituito anche ha fatto le veci anche della dottoressa Loreti di Shell allora ehm Ziro è una nuova eh società di investimento possiamo dire fondata da Marco Alvera penso che tutti sappiano eh diciamo il già amministratore delegato di Snam e è focalizzata su l'energia e green che cosa fate voi create delle partnership per rendere diciamo così le tecnologie in qualche modo eh abili poi a scalare in un certo qual modo quindi siete un po' una specie di di venture capital adesso ce lo spiegate ce lo spiegate bene quello che dal vostro osservatorio ci potete dire è che appunto siamo con tutte le proposte di tecnologie focalizzate sull' idrogeno chiaramente poi se ovviamente voi vi occupate anche di tutto il settore e poi voi quali sono le vostre aspettative per il prossimo per il prossimo futuro rispetto al contesto in cui operate certo grazie buongiorno a tutti beh innanzitutto mi accuodo ai colleghi che mi hanno preceduto nel dire che la sfida della transizione energetica non può essere che una sfida che ha una soluzione corale quindi oggi abbiamo parlato di di fuel se abbiamo parlato di idrogeno ma ovviamente non si vuole escludere nulla noi come società e che è una società di sviluppo quindi effettivamente investiamo nello sviluppo di progetti quindi siamo diciamo tecnologie agnostiche non abbiamo scelto una tecnologia principale sul quale puntare però abbiamo scelto l'idrogeno verde come area di investimento sul quale andare a sviluppare tutto quello che sarà la nostra pipeline di progetti l'idrogeno verde che da un punto di vista di tecnologia vorrei dare un messaggio positivo cioè non è una sfida tecnologica in sé la tecnologia esiste la tecnologia è provata è stata sviluppata da anni e quindi non ha di per sé una incertezza legata alla possibilità a un'incertezza legata alla scalabilità ne ha parlato i nostri colleghi prima e alla competitività di costo quello sì perché produrre idrogeno qualche decennio fa aveva dei costi assolutamente inarrivabili oggi in Europa produrre idrogeno verde si aggira tra i 6 e gli 8 dollari al chilogrammo produrre idrogeno in medio oriente come ricordava il collega prima oggi costa probabilmente la metà produrre negli stati uniti oggi costa altrettanto la metà perché l'amministrazione americana ha introdotto una serie di incentivi che fanno sì che la produzione di idrogeno negli stati uniti è facilitata da una serie di incentivi di tasse di produzione di tasse che lo rendono particolarmente competitivo ecco la scalabilità e la competitività di costo è la sfida dell'idrogeno verde perché l'idrogeno verde purtroppo ha bisogno di alti rendimenti quindi ha bisogno di essere prodotto in quei paesi dove la risorsa naturale è così vantaggiosa da permettere di raggiungere delle percentuali di produzione particolarmente convenienti e purtroppo non è l'Europa l'Europa sarà un importatore netto di idrogeno verde quindi la sfida è riuscire a farlo in maniera competitiva in quei paesi dove effettivamente c'è una disponibilità di risorsa naturale importante e poi portarlo in Europa oggi la catena del valore dell' idrogeno è una catena che non esiste da un punto di vista di logistica le navi che trasportano idrogeno liquido piuttosto che le pipeline che attraversano il mare all'idrogeno non ci sono quindi bisogna trovare un vettore economico per riuscire a andare a completare quel gap che c'è tra un'identificazione di una sito o comunque di un'opportunità di investimento che è particolarmente competitiva e poi riuscire ad arrivare in Europa ecco non come zero noi ci siamo posti questa sfida ossia andare a investire in quei paesi dove l'energia è abbondante e competitiva e poi riuscire ad avere uno sbocco sul mercato uno dei primi investimenti che abbiamo fatto si chiama 3 energy solution è una società tedesca che sta sviluppando oggi il più grande rigassificatore di metano metano quindi a fonte fonte di idrocarburo in germania della germania del nord ma che ha l'ambizione fra sei anni tra tre anni quindi nel 2026 di importare metano sintetico metano sintetico che è la combinazione appunto di un metano di un idrogeno dell'elettrolisi con CO2 biogenica o sequestrata come hanno esposto i colleghi prima ecco quello è un prodotto è un e-fuel perché nasce da una base elettrica attraverso l'elettrolisi che potenzialmente può essere indirettamente utilizzato da quella che oggi è una catena assolutamente approvata quella del metano può essere lì che è fatto come metano naturale può essere trasportato con le navi e i carrier e le ng così come lo è il metano e può essere di nuovo una volta ricevuto nel terminale di rigassificazione o separato e quindi ulteriormente portato allo stato di idrogeno utilizzato in quelle catene produttive che utilizzano direttamente l'idrogeno oppure alternativamente utilizzato come metano sintetico in alternativa al metano ovvio deve essere competitivo quindi ha bisogno che l'elemento e tutta la catena del valore per produrlo sia competitiva e oggi per produrre idrogeno in maniera competitiva serve una risorsa naturale competitiva perché circa il 70 per cento del costo della produzione di un idrogeno verde oggi è sulla risorsa naturale quindi quello è l'elemento la sfida delle rinnovabili è una sfida avanzata sappiamo il mercato è maturo le oli col solare il col solare a concentrazione sicuramente c'è una sfida di efficienza legata agli elettrolizzatori la domanda di elettrolizzatori oggi sul mercato ci sono stati più di mille progetti sanzionati negli ultimi nell'ultimo anno di nuovi potenziali giga scale project che avranno bisogno di elettrolizzatori ecco lì la catena la filiera deve svilupparsi nuovi investimenti nuove scale nuove giga factory come vengono chiamate l'europa potrebbe avere l'italia anche una grande opportunità perché effettivamente queste sono tutti indotti che dovranno essere sviluppati e portati oggi sta vincendo qualcun altro gli stati uniti hanno creato l'ecosistema per far sì che quel tipo di investimenti venga dirottato verso quella quelle regioni l'europa deve dare una risposta l'italia come paese ovviamente per riuscire a creare una filiera di competenze che in questo paese c'è e che stiamo facendo noi come progetti stiamo puntando su aree come nord africa come sud africa la namibia gli stati uniti abbiamo i progetti che sono in fase di valutazione che hanno per darvi un riferimento potenzialmente una produzione rinnovabile che parla di 3-4 gigawatt di rinnovabile a monte per produrre poi circa un 2 gigawatt di elettrodistrazione questi ecco sono progetti che arriveranno nei prossimi 3-4 anni noi abbiamo l'intenzione di prendere una decisione di investimento per almeno 5 gigawatt di investimento al 2026 è una parte di quello che potrebbe essere la domanda enorme di una nuova fonte energetica a livello europeo sicuramente ci saranno altri player che si stanno muovendo in maniera analoga alla nostra che hanno scelto altre tecnologie o altre direttrici come dicevo all'inizio non è una risposta singola è fatta una risposta corale lo spazio enorme la capacità di investimenti e la potenzialità di attrarre investimenti in questo settore enorme una grande opportunità che in questo momento va cavalcata allora abbiamo 3-4 minuti e dobbiamo concludere però vorrei farvi un così una battuta veloce da parte di ciascuno di voi sinceramente cioè vero siamo in un evento ci sono delle persone però secondo me su questi temi bisogna essere crudeli crudi realistici sinceri facciamo un po rubiamo per un attimo il messiere a Bartelloni che si confronta con gli organismi europei le istituzioni a questo diciamo ruolo anche difficile sicuramente in bocca al lupo a Bartelloni perché in questo momento non è semplice la vostra più grande preoccupazione se aveste Ursula von der Leyen qua davanti quale quale cosa le direste ovviamente su questi temi che sono emersi ma qual è l'urgenza secondo voi che l'Europa dovrebbe assolutamente in prima linea affrontare ripartiamo da da zilli facciamo seguiamo questo questa linea guardi sicuramente il focus principale e l'attenzione è sulla filiera sull'ecosistema se prima si parlava di will to to tank to will o meglio well to to will se non siamo focalizzati e non facciamo un ragionamento dell'intero processo come dicevo abbiamo dei problemi di 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 crescita organica ed omogenea delle delle alternative fuels e delle nuove tecnologie Dini Ferrari allora io le direi che i fuels e idrogeno non sono in alternativa all'elettrico ma sono complementari perché servono per portare quell'energia rinnovabile che in Europa non abbiamo dai dai paesi nei quali questa energia rinnovabile è disponibile in Europa sono dei vettori dell'energia quindi ci portano l'energia presa in Africa in in Sud America in Australia e dove questa è presente. Grazie. Laddi Renzo. Insisterei sulla neutralità tecnologica chiederei anche di prendere decisioni consapevoli e anche che si possano concretizzare per davvero. CTO di Panci Antonioli. Per aggiungere quello che hanno già detto fra il sommetto soprattutto su Ambrosetti che ha detto una cosa su me molto importante relativo al tipo di idrogeno. Noi puntiamo sull'idrogeno verde qua in Europa. Io vi posso dire che è stato un summit importantissimo in Cina dove la Cina sta investendo bilion su bilion su bilion su bilion sullo sviluppo di idrogeno e per favorire la domanda cosa fa parte dall'idrogeno super grigio non parte dall'idrogeno verde perché prima crea l'infrastruttura facile e veloce senza andare sulle rinnovabili in modo da fare lo sviluppo della tecnologia e della domanda e a quel punto lì è un piano di combattirlo in idrogeno verde ma dopo e quindi secondo me un bilanciamento e un approccio un pochino più strategico dal punto di vista europeo sarebbe quello che ci vuole se vogliamo veramente andare poi alla fine a favorire questo tipo di decarbonizzazione. Chiaro. Zilli di Zero. Diciamo certezza in quella che è la normativa e nella visione a lungo termine nel senso che oggi l'Europa ha adottato una serie di atti delegated che danno l'implementazione di quella che è la normativa principale ma lo sta facendo con una diciamo una tempistica abbastanza diluita nel tempo che crea incertezza in sé quindi riuscire ad avere una visione chiara immediata dalla certezza poi per portare avanti degli investimenti e creare appunto una filiera circostante che può essere utile non soltanto per l'Europa in sé ma anche per le singole filiere nazionali. Grazie. Io ringrazio tutti quanti voi Pierpaolo Antonioli. Sì, prego, prego. Siamo veramente in chiusura. Ma insomma considerando che il Nord Africa ha dato una mano all'Europa per quanto riguarda almeno gli ultimi vent'anni se non più ad avere fonti energetiche anche se di fonte fossile direi che sicuramente è un partner importante. Il SolarTech che citava lei è un'iniziativa partita tanti anni fa è partita il momento in cui i costi per quel tipo d'iniziativa erano sicuramente proibitivi e sfidanti oggi è un' iniziativa che potenzialmente avrebbe un successo diverso. Io vi lascio però dibattere perché devo svuotare la sala non me ne vogliate sicuramente fuori potete discutere Zilli è assolutamente disponibile. Grazie a tutti. Grazie.